Grazie a tutti. I risultati si stanno vedendo. Infatti al San Mauro è la prima partita dell'anno e i tifosi possono essere soddisfatti? Sì, diciamo che i ragazzi stanno facendo benissimo, non possiamo che essere soddisfatti delle loro prestazioni e del loro impegno più che altro. È stato importante sbloccare subito il match con il gol che non ti aspetta, il gol di De Rosa? Sì, diciamo che purtroppo partire subito, la squadra era concentrata, partire subito e fare gol ti dà quel vantaggio in più perché la squadra avversaria si butta un po' in avanti e tu riesci a giocare meglio negli spazi. E noi siccome abbiamo degli esterni bravissimi che si buttano subito negli spazi, l'abbiamo castigato subito diciamo. A proposito di esterni, doppietta di Simonetti, il gol anche di Lucignano appena entrato, Ruffo non ha segnato ma ha offerto una prestazione importante così come anche Maione, Caprocosto. Davvero è una squadra coperta in tutti i ruoli questa? Sì, abbiamo allestito una squadra buona, una squadra buona che ci può dare delle grosse soddisfazioni. Se rimaniamo sempre concentrati così sicuramente andremo lontani, anche perché la squadra è stata costruita per fare questo. Continua questa sfida a distanza con il Bacoli che vince, quindi restano tre punti di distanza ma confermiamo il secondo posto e soprattutto anzi lo rafforziamo. Ma noi non pensiamo né al Bacoli né alla Cerrana, non pensiamo a nessuno, noi pensiamo a noi. Adesso godiamoci questa vittoria e poi già da domani pensiamo all'Alba Nova che è la squadra che viene subito. L'ho detto prima, l'altra volta, noi pensiamo solo alla mia classifica e basta.